Una piattaforma per il business internazionale, un momento di incontro e confronto, un laboratorio di idee, trend e prospettive per il futuro. Questi gli ingredienti che hanno caratterizzato la 88esima edizione di Expo Riva Shoe, che si è conclusa ieri sera con 11.224 visitatori. Un dato in linea con quello registrato nell'edizione del giugno 2016. Nella giornata di lunedì 11 giugno, il console generale del Sudafrica a Milano, Titi Inksumalo, ha visitato Expo Riva Shoe e partecipato ad un incontro in cui ha sottolineato l'importanza del settore calzature per l'economia del Sudafrica. Altri due gruppi di espositori da Bulgaria e Russia, in particolare da San Pietroburgo, hanno debuttato tra i 1.464 espositori provenienti da oltre 40 paesi, che a Riva del Garda hanno presentato le collezioni per la primavera-estate 2018. Tra i buyer è invece da segnalare la presenza di un'importante delegazione di compratori francesi, a riconferma del ruolo chiave che Expo Riva Shoe gioca a livello europeo e mondiale. Uno sguardo al futuro che proietta Expo Riva Shoe verso il prossimo appuntamento. In programma Riva del Garda dal 13 al 16 gennaio 2018. Oggi si è conclusa l'ottantatesima edizione della nostra più importante manifestazione che è Expo Riva Shoe. Il bilancio è assolutamente positivo, i visitatori hanno superato le 11.000 unità e gli espositori, come già detto, sono più di 1.450. La cosa interessante è che questa manifestazione ospita sia la parte più tradizionale della calzatura, quindi i grandi ordini fatti direttamente negli stand, ma anche una componente sempre più importante di e-commerce, quindi di nuovi soggetti presenti in fiera che trattano l'universo della vendita online, che ovviamente ha raggiunto numeri che supereranno sicuramente il 20% del totale del volume di produzione delle calzature. Si può dire quindi che per il settore del calzaturiero bisogna passare da Riva del Garda? Sì, 100 paesi di provenienza dei compratori e 40 e più per i produttori. In sostanza i 23 miliardi di paia di scarpe che vengono prodotti nel mondo ogni anno sono comprati e venduti principalmente a Riva del Garda, nelle due edizioni della fiera. In linea di massima, però, la grande produzione asiatica vende ai grandi compratori europei. Una 88esima edizione di Expo Riva Schu di successo? Sì, si è appena conclusa l'88esima edizione di questa manifestazione con grande soddisfazione da parte degli espositori e dei compratori. Una vetrina sempre più internazionale anche grazie alle attività che abbiamo fatto rivolte ai compratori sui mercati europei ed extraeuropei. Abbiamo iniziato un progetto denominato Expo Riva Schu Round the World. Abbiamo fatto prima tappa in Sudafrica, paese, un mercato emergente. Grazie a questo incontro abbiamo portato quattro aziende produttrici e l'associazione dei calzatorieri. Dopodiché procederemo, andando verso il nord Europa, a caccia di compratori e, come nuovi paesi, porteremo l'anno prossimo la Bulgaria e la Romania. Per quanto riguarda invece la Russia, abbiamo avuto una presenza a questa edizione di Expo Riva Schu. Per la prima volta una collettiva di San Pietroburgo, quindi russa, presente all'evento. Questo vuol dire che i tempi sono cambiati, i mercati sono cambiati, le aziende russe che non hanno mai frequentato la nostra manifestazione adesso sono sempre più presenti. Anche i compratori sono tornati, avevamo già visto nelle passate edizioni un aumento di questi numeri. Adesso sono sempre più presenti, quindi comprano calzatura di volume. In termini di numeri, Expo Riva Schu presenta due edizioni annuali con un impatto economico e di indotto sul territorio molto importante. L'impatto sul territorio è fondamentale. Abbiamo fatto qualche edizione fa una ricerca di mercato condotta dall'Università Bocconi di Milano. Si stima che sul territorio venga prodotto, grazie a questa manifestazione, un indotto di oltre 2 milioni di euro. Quindi una manifestazione fondamentale anche per l'economia del Garda Trentino.